Little Mouse, cause I'm an Albatross I'm an Albatross Sì l'unore, sì l'unore, sì l'unore L'avevo detto, tiriamo da fuori Facciamogli egoisti, facciamogli male Facciamogli male così, così Tiriamo da fuori Eh sì, tiriamo da fuori e la Juventus è in vantaggio Capito! Tevez, terzo minuto, sblocca il risultato Recuperiamo un pallone decisivo Al limite dell'area di rigore del Borussia Un passaggio per Tevez Al limite che guarda, punta, tira, segna Scrivono Corrado, visto che ai quarti ci sono arrivate due squadre francesi Per non scendere nel ranking Non pensi che sia il caso di tifare Juve anziché gufare? Eh, rispondici C'è una domanda più semplice Mi viene probabilmente impossibile Ma sinceramente Per un tifoso come me Ci mancherebbe, sono contento per i miei amici Eventualmente se sono felici loro Però un tifoso come me che non riesce Io non riesco Ma se hai risultato Hai risultato quando sei stato Tevez? Hai di qualche facendo così? Sì! Io ti ho visto Per un'altra squadra magari riuscirei Tu dici per il Torino Speriamo che il Torino rimonti domani Dici il Torino speriamo che rimonti Ci mancherebbe Certo, certo Però lei questa sera non ce l'ha mai L'ha messa in mezzo Posizione regolare Di Flash Flash Morata Che lo piazza nel modo più semplice 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 nella rete 2-0 Il Borussia si lamenta Per la posizione Non irregolare Né di Morata Né di Tevez Che parte Tevez 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 Rivediamo 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 La mette in mezzo Il fuorigioco L'ha visto solo qualche tifoso del Borussia Parente di questo signore qua Chi l'ha messa? Marchisio La pace Non fa male Di più Di più Di più Ragazzi 3-0 3-0 In quella di Dortmund In quella di Dortmund Grande gol Eh sì Borussia 0 Juventus 3 3-3 The Champions È finita 3-0 Anzi Borussia 0 Juventus 3 Forti anche di quel 2-1 dell'andata Che aveva messo un po' così In pericolo la qualificazione Per i più pessimisti La Juventus passa E si Qualifica Per i quarti Di finale Stavo facendo il ragionamento Era da un po' che non ci andavo Quindi non mi ricordavo se erano gli ottavi o i quarti No no Sono i quarti ragazzi Quarti di finale Insomma Unica italiana 9 milioni stasera entrano nelle tasche bianconere Si sommano agli altri circa 50 racimulati in questo periodo Sempre parlando di Champions Ne potrebbero entrare in prospettiva già una trentina Una trentina tra gara di andata e ritorno Botteghino Valori aggiunti Sembrano un po' tantini eh No no Sono così Arrivi a 90 alla fine Siamo attenti Torino allo spicciolo No no Per carità Per carità Buon per voi Buon per le casse Adesso ce ne sono Gara d'andata e ritorno Sono una ventina di milioni Grazie a tutti